Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i cosi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrano regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Divino Volere e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa la volontà di Dio e come vivere in essa. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Scegli, scendi, sempre a volere. Vieni, vieni a regnare tra noi, Gesù conquista tutti, vincino a un volere, affinché il tuo figlio regni sulla terra. Mi fondo in te, nel tuo volere, Gesù. Affinché il tuo figlio regni sulla terra, mi fondo in te, nel tuo volere, Gesù. Scegli, scendi, sempre a volere, vieni, vieni a regnare tra noi, Gesù conquista tutti. Vincino a un volere, Gesù. Vincino a un volere, affinché il tuo figlio regni sulla terra, mi fondo in te, nel tuo volere, Gesù. Vincino a un volere, Gesù. Grazie a tutti. La seconda parte dal volume 7 del 28 novembre 1906 e la seconda parte dal volume 11 del 23 aprile 1912. Ho visto il benedetto Gesù e pareva che si trasformasse tutto in me, in modo che se io respiravo sentivo il suo respiro nel mio, se io muovevo un braccio sentivo muovere il suo nel mio e così di tutto il resto. Mentre ciò faceva mi ha detto, figlia di letta mia, vedi in che stretta unione sto con te? Così voglio te tutta stretta e unita a me e questo non ti credere che lo devi fare quando soffri o preghi, ma sempre, sempre. Se ti muovi, se respiri, se lavori, se mangi, se dormi, tutto, tutto come se lo facessi nella mia umanità, come se uscisse da me il tuo operato. In modo che dovresti essere tu non altro che la scorza e rotta la scorza della tua opera si dovrebbe trovare il frutto dell'opera divina. E questo devi farlo a bene di tutta quanta l'umanità, in modo che la mia umanità si deve trovare come vivente in mezzo alle gente. Perché facendo tu tutto, anche le azioni più indifferenti, con questa intenzione di ricevere da me la tua vita, la tua azione acquista il merito della mia umanità. Perché essendo io uomo e Dio nel mio respiro, contenevo i respiri di tutti, i movimenti, le azioni, i pensieri, tutto contenevo in me. Quindi li santificavo, li divinizzavo, li riparavo. Onde facendo tutto in atto di ricevere da me il tuo operato, anche tu verrai ad abbracciare e a contenere tutte le creature in te, ed il tuo operato si diffonderà bene di tutti. Sicché ancorché gli altri non mi daranno niente, io prenderò tutto da te. Figlia mia, il mio amore per la creatura è grande. Vedi come la luce invade la terra? Se tu potessi fare di quella luce tanti atomi, in quegli atomi di luce sentiresti la mia voce melodiosa. E ti ripeterebbero l'uno presso l'altro. Ti amo, ti amo, ti amo. In modo che non ti darebbero tempo a numerarli. Resteresti affogata nell'amore e di fatti, ti amo, ti amo, ti dico nella luce che riempie il tuo occhio. Ti amo nell'aria che respiri. Ti amo nel sibilo del vento che percuote il tuo dito. Ti amo nel calore e nel freddo che sente il tuo tatto. Ti amo nel sangue che scorre nelle tue vene. Ti amo nel palpito del tuo cuore che ti dice il mio palpito. Ti amo, ti ripeto in ogni pensiero della tua mente. Ti amo in ogni azione delle tue mani. Ti amo in ogni passo dei tuoi piedi. Ti amo in ogni parola. Perché niente succede dentro e fuori di te se non concorre un mio atto di amore verso di te. Sicché un mio ti amo non aspetta l'altro. E i tuoi ti amo quanti sono per me. Ecco, è facilmente distinguibile anche perché sono due scritti distinti. La prima dalla seconda parte di questa meditazione. La prima che ci ricorda l'importanza di compiere tutti gli atti, anche i più indifferenti, in unione con la Divina Volontà, in modo tale che possano essere atti fatti propri dall'umanità di Gesù, nel modo in cui adesso brevemente riprenderemo e approfondiremo spiegandolo. Mentre la seconda parte è qualcosa di straordinariamente meraviglioso. Io mi sto convincendo, forse l'ho detto anche in qualche meditazione passata, che vivere nella Divina Volontà significa un'espressione molto forte che qui viene usata, imparare a vivere affogati nell'amore. E' un'espressione tecnica, un'espressione ricorrente negli scritti di Luisa. E' bellissima questa immagine. Affogati, no? C'è nel senso che c'è proprio l'idea di chi è talmente tanta, d'accordo alla violenza e all'impeto dell'acqua da cui viene circondato, che viene completamente travolto, quindi sta proprio immerso, affogato. Quando affoga, muore tale e tanta è l'acqua che lo circonda e vedergli di respirare, no? Ecco, tutto quanto questo carico di amore di Dio che gli uomini non sanno riconoscere e che la Divina Volontà non è che rivela, perché tutta la Sacra Scrittura e continuazione parla dell'amore di Dio. Però, come sempre accade, lo centellina, quindi lo spiega, mette a fuoco alcuni aspetti, no? Evidenzia alcune cose tale che è da farci, come dire, spero morire di gioia, capite? Perché vivere è essere amati, non è essere amati da Dio, d'accordo? E l'amore di Dio è in atto incessantemente nella nostra esistenza. Anche su questo poi faremo, se Dio vuole, anche con qualche ulteriore esempio, riprendendo quelli che ha fatto Gesù, che sono già abbastanza, magari riprendendone anche qualcun altro, no? Vediamo la prima parte. Allora, innanzitutto l'immagine che Luisa vede sconvolgente, perché dice che ha visto Gesù trasformarsi tutto in lei, in modo che se io respiravo, scrive, sentivo il suo respiro nel mio. È impressionante questo. Adesso chiunque ascolta questa catechesi, provi a fare un respiro, cioè a ascoltare il respiro, non fare un bel... Ecco, se io dico viene divina volontà nel mio respirare, questo si dice, se non ricordo male, nell'atto preventivo, comunque si può rinnovare in qualunque momento della giornata, questo è unito al respiro di Gesù, cioè Gesù lo spiega. Quando era sulla terra, lui era il verbo incarnato, quindi la sua umanità certamente era un'umanità finita, no? Quando Gesù nel Vangelo di San Giovanni dice queste cose non le sa nessuno, neanche il figlio, ma soltanto il padre, perché il padre è più grande di me, queste cose qui che gli eretici hanno travisato, lui chiaramente sta dicendo queste cose in riferimento alla natura umana assunta. La natura umana assunta è perfettissima, quella di Gesù, ma è in quanto tale, capite bene, altrimenti si va nell'elesia, limitata. Solo che questa natura umana è indisgiungibile e inseparabile dalla persona divina del verbo che l'ha assunta. Quindi ogni atto compiuto nella Santissima Umanità da Gesù è un atto della seconda persona della Santissima Eternità. Qualunque, capite? Anche lavarsi i piedi, d'accordo? Cosa che Gesù presumibilmente faceva, è un atto della seconda persona della Santissima Eternità. Cioè tu puoi dire, la seconda persona della Santissima Eternità si sta lavando i piedi. Ed è la verità, perché quello è un atto suo. Se Gesù fa un respiro, tu puoi dire, puoi e devi dire, Dio sta respirando. Capite? Si deve dire, non solo che si può. Vi parlo insomma come, parlo in questa meditazione, anche come colui che sa insomma quello che dice, conosco la teologia dogmatica, conosco i dogmi della Chiesa, in particolare questi cristologici. Sto scrivendo anche degli articoli in questo tempo, insomma, sul settimana di Padre Vio, proprio sulla cristologia. Quindi, se io dico, viene divina volontà a respirare in me, oppure Gesù, ti amo con la tua volontà, viene a respirare in me, quel respiro che io sto facendo è un atto che appartiene a Gesù. Cioè, io mi sto fondendo con la sua umanità. Il respiro di Gesù, perché era così importante? Perché essendo l'umanità di Gesù unita al Verbo di Dio ed essendo il Verbo di Dio la seconda persona della Santissima Trinità, quindi Dio da Dio, luce da luce di vero da Dio vero, cioè, la sua presenza abbraccia trasversalmente la storia. Cioè, lui è presente, come ci spiega dopo, in ogni minima azione lecita, ovviamente, o buona e anche sotto certi aspetti che sono comunque da spiegare anche nelle azioni che sono meno buone perché comunque Dio ci mantiene nell'essere, d'accordo? Quindi, anche se non approva l'esercito sbagliato del libero arbitrio, io posso compiere con l'azione perché sono vivo. Ecco, e quindi c'è comunque sempre, capite, un intervento divino nel nostro giro. Noi in lui ci muoviamo ed esistiamo, non possiamo fare nulla senza di lui, capite? Niente. Ecco, quindi, immaginate, no? Allora, Gesù, dobbiamo capire, la sua vita terrena ha avuto il compito di riparare e rifare ogni minimo gesto dell'essere umano sia in quanto cattivo perché peccaminoso, ma sia anche in quanto buono perché compiuto non nella divina volontà nella quale agiva Adamo prima della colpa d'origine e nella quale ora Dio vuole che agiscano coloro che accolgono entrandoci nel regno della divina volontà. Quindi, trasformando un essere in un atto se io muovevo un braccio sentivo muovere il suo nel mio e così tutto il resto. Uno ci ha pensato che se muove un braccio per prendere il telefono e portarlo all'orecchio può dire viene divina volontà nel mio muovere questo braccio ora e come dire trasformare questo gesto indifferente in un atto divino attenzione atto divino che vuol dire meritorio che acquista il merito dell'umanità e che va a beneficio di tutta l'umanità perché unito alla divina volontà diventa atto di Gesù e quindi come gli altri di Gesù diventa capace di raggiungere gli uomini di ogni tempo e di ogni spazio e di riparare ecco per tutti quanti gli usi del braccio sbagliati per esempio d'accordo per chi usa il braccio per sferrare un pugno al fratello per esempio o cose di questo genere tutto va fatto in questo in questo modo per cui il vivere nella divina volontà comporta semplicemente non c'è nessun cambiamento diciamo così esteriore o oggettivo in quello che facciamo un prete continua a fare il prete continua a celebrare la messa continua a amministrare i sacramenti e continua a ascoltare alle persone continua a fare le catechesi continua a predicare continua ad empiere la funzione di parroco a fare funerale a fare battesimi a stare nell'ufficio parrocchiale a prenotare i matrimoni non lo so a visitare i malati tutte quante le cose insomma tipiche adesso non mi sto annoiando che sono le cose insomma che un parroco deve fare ma la stessa cosa fa un marito una moglie un single un lavoratore un chi volete capite ma tutte le azioni vanno fatte nella divina volontà e qui capite che tutti quanti queste cose che ho fatto riferimento all'atto preventivo è un atto molto importante perché abbraccia come dire a volo d'angelo tutto quello che faremo nella nostra giornata ecco immettendolo nella divina volontà come ho detto tante volte l'atto attuale però quindi rinnova l'atto preventivo lo fortifica e soprattutto ci consente di non perdere mai la percezione della divina presenza e anche di come dire spazzare via qualche eventuale nuvola d'accordo che ci che si può frapporre fra noi e e il nostro operato d'accordo quindi uscendo con altra espressione tecnica dalla luce della divina volontà e agendo con volontà umana ecco d'accordo quindi anche nell'ambito del lecito attenzione perché noi abbiamo un po' un'idea un po' così anche questo nella vita nella divina volontà deve completamente essere distrutto questo pensiero noi abbiamo idea che gli atti da fare con Dio e quindi da attrarre nell'orbita della divina volontà sono soltanto gli atti sacri quindi quando preghiamo quando soffriamo quando facciamo una penitenza quando questi giorni che si muore dal caldo diciamo fiat e ti offro tutto quanto questo caldo secondo le intenzioni della madonna ecco in riparazione dei peccati di tutto quello che stanno combinando gli uomini che se li attirano insomma queste queste terribili insomma sofferenze causate da questo caldo in umano eccetera no certamente questi sono atti evidentemente da attrarre ma da attrarre nella divina volontà ma tutti gli atti vanno attratti capite quindi nella fermissima persuasione che se io veramente dico viene divina volontà a muovere il braccio viene divina volontà a respirare viene divina volontà in questi passi che sto facendo dal soggiorno alla cucina d'accordo perché voi capite quante quante ce ne stanno no viene divina volontà nel mio parlare viene divina volontà nel mio gesticolare viene divina volontà nel mio parlare al tempino prima di fare la telefonata prima di rispondere a un messaggio prima di scrivere un'email cioè sono infiniti prima di mettermi in macchina prima di guidare capite ecco questo l'ho fatto sempre come ho sempre raccomandato con calma uno non può farsi prendere dall'ansia che è come dire fa questa cosa in maniera disordinata sfrenata insomma o non si sta con la testa o non parla con le persone perché sta facendo gli atti di fusione con la divina volontà no non stiamo parlando di questo sono tutti quanti i processi che avvengono in maniera dolce e delicata ecco con uno sforzo dell'attenzione sforzo pacifico e sereno però capite cioè facendo questo Gesù dice tu sei la scorza d'accordo da cui esce una volta che si è rotta frutto di opera divina che ridonda beneficio di tutta l'umanità ripeto questo è palese perché Gesù era il figlio di Dio quindi non soltanto il suo respiro raggiungeva i respiri di tutti quanti gli uomini di tutti i tempi ma tutti i respiri di tutti gli uomini di tutti i tempi erano come dire presenti in lui capite erano contenuti da lui capite perché il soggetto a cui sono attribuibili gli atti dell'umanità santissima di Gesù è il verbo di Dio e il verbo di Dio nella sua infinitezza abbracciante tutto contiene tutto in sé capite ecco perché è così importante quello che Gesù ha fatto anche fuori della passione divinizzare e santificare le azioni decite e buone degli uomini riparare quelle peccaminose questa è stata la sua vita capite e ogni atto compiuto nella divina volontà come sappiamo fa farsi nostra le intenzioni di Gesù e quindi ogni atto diventa riparatore diventa beneficio per tutta l'altra l'umanità quindi conversione dei peccatori e santificazione dei giusti diventa massima gloria di Dio perché si danno e si offrono al Padre azioni degne di Lui e azioni degne di Dio sono solo e soltanto azioni divine ecco quindi è impressionante il tuo operato si diffonderà a bene di tutti e anche se gli altri non mi daranno niente io prenderò tutto da te io ripeto conoscendo questi meravigliosissimi non si dice è un'espressione caricata scritti di Luisa vi posso confessare che ho trovato anche una grandissima pace perché io ci credo a questo qui e credo anche che la più grande azione benefica che si possa fare per la Chiesa per i problemi della Chiesa per il mondo sia esattamente compiere questi atti tra l'altro ecco imbracciando insomma uno stile e un modo di fare questa sensibilità molto mariano quindi che rifugge da critiche da cose da contese da denunce rottavanti queste cose qui che stavano soltanto a causare marasmi e e che ha invece un'efficacia assolutamente stratosferica e tra l'altro ci rende enormemente intimi di Gesù Gesù vorrebbe amore dagli uomini ma pensate che è bello sentirsi dire guarda che se anche se gli altri non mi daranno niente caro Francesco cara Nicoletta ecco caro Leonardo caro Giancarlo cara Patrizia io prenderò tutto da te capite cioè possiamo fare contentissimo Gesù ma tanto contento eh possiamo dire a Gesù se uno parlo dice guarda non guardare tutti quanti i peccati degli uomini ingrati guarda me che ti presenta azione degna di te in riparazione anche tutti quanti i peccati degli uomini e per questo perdonali e che presto tutti possano conoscere il regno del fiat divino e possa questo regno venire sulla terra ma voi capite come come si campa diversamente agendo in questo modo no? ecco l'altra dimensione che è fondamentalissima io ritengo anzi non è che ritengo potente presente che c'è una tenta cioè un'operazione diabolica diciamo così fondante che è cominciata nell'Eden e che continua sapete qual è? il diavolo oscura ai nostri occhi e alla nostra mente il mistero dell'amore di Dio attenzione l'amore di Dio che qui Gesù spiega in maniera molto concreta e molto percepibile cioè cosa c'era dietro il peccato originale? c'era l'insinuazione che questa proibizione di mangiare l'atto della conoscenza scusate il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non era un atto di amore nei confronti dell'uomo ma era un atto come dire che è brutto cattivo limitante dice che cosa Dio ha detto che morirai se mangi di quest'atto ma quale morirai? diventerai come lui ecco perché ha detto di non mangiare quindi ha insinuato capite come come se Dio come dire fosse geloso siccome l'uomo potrebbe raggiungerlo allora io gli metto un paletto perché se fa questa cosa diventa come me poi io insomma mica mi sta tanto bene che qualcun altro sia come me ma pensate un po' cosa significa questo? significa Dio non ti amo questo significa allora che cosa devo fare per entrare nel regno della divina volontà? bene comincia a farti attento agli infiniti ti amo di Dio i ti amo ci stanno nella creazione il fiat creante d'accordo? fare esempio bellissimo degli atomi che si staccano dal sole ti affogherebbero dentro un ti amo continuo poi quando senti un pochino di vento lì ci non ti amo di Dio la luce ti amo di Dio l'aria che respiriamo ti amo di Dio sibilo del vento ti amo di Dio freddo e caldo ti amo di Dio poi abbiamo i ti amo di Dio dentro di noi nel nostro respiro ci non ti amo di Dio nel sangue nelle vene ci non ti amo di Dio nel palpito del cuore proviamo ogni tanto a sentire i batteri del nostro cuore lì ci attiamo di Dio perché lui che ha creato questo cuore che funziona in maniera così perfetta e che nel silenzio il cuore insieme al cervello è l'organo più importante del nostro corpo e viene anche prima del cervello perché il cervello se non ha l'inorazione sanguigna tenete sempre presente che la morte cerebrale non è ancora la morte perché la morte avviene quando il cuore cessa di batte quindi il cuore è proprio l'organo per antonomasia è vitale poi attenzione abbiamo le cose che attengono la creazione del nostro corpo ma abbiamo anche tutte le operazioni che noi compiamo in quanto operazioni cioè se la mia mano si muove adesso non sto registrando il video però per esempio quando uno parla generalmente fa dei movimenti esplicativi inconsci così sempre con le mani questi movimenti inconsci esplicativi con le mani ce la notiamo di Dio perché sono fatti perché anche se non ci sto pensando c'è tutto quanto un sistema sofisticatissimo che fa muovere le mie mani capite il sistema neurologico i nervi le articolazioni i muscoli eccetera non ci sto pensando ma è Dio che ha fatto questo capite imparare a vedere le cose che ci capitano nella vita come ti amo di Dio guardare le altre persone come ti amo di Dio sempre qualunque cosa facciano perché anche quando fossero cattive sono comunque un ti amo di Dio un ti amo di Dio simile a quelli che ha ricevuto Gesù così Gesù così li ha ricevuti durante la passione tutti quanti gli oltragi le offese sofferte da Gesù durante la passione lui le ricevute come ti amo di Dio perché permesse dalla divina volontà per la redenzione del mondo le ha prese avidamente su di sé ricambiando con amore ci sono dei passi delle ore della passione molto belli che dice che Gesù quasi stesse supplicando le persone di farlo soffrire di più cioè invocando ulteriori sofferenze per la salvezza dell'umanità ma di che cosa vogliamo andare a parlare quindi che l'uomo lo riconosca o non lo riconosca questo ti amo affogante chiamiamolo così travolgente io amo chiamarlo di Dio ci circonda in continuazione e Gesù alla fine che cosa dice e i tuoi ti amo quanti sono per me cioè voi pensate all'ingratitudine pazzesca oggettiva chiaramente inconscia ma pazzesca comunque dell'essere umano chi è che nella vita passa il tempo a ringraziare il Signore o a ricambiare con lo stesso ricambio di amore tutto quanto l'amore infinito con cui Dio riempie la nostra esistenza chi lo fa c'è qualcuno certamente che lo fa ma sono una minoranza del razzo umano ecco noi ci vogliamo dobbiamo cercare di essere tra quei pochissimi ricordando che il mistero della vita nella Divina Volontà è un mistero di amore c'è una cascata di amore percepito ripeto nel fiat creante nel nostro corpo nelle persone nelle situazioni che non si muovono mai senza la volontà di Dio c'è un immenso ti amo in quello che noi siamo in quanto esseri umani e quello che riceviamo per esempio guardare le cose in maniera tutta completamente rivina cioè tu per esempio hai un amico che non ti amo di Dio grande ti amo di Dio ma se lo ricevi come ti amo di Dio non si sia più bella d'accordo è soprannaturale è distaccata è disinteressata porta già con se stessa alcune cose belle no perché anche tra grandi amici si conserva sempre un grande rispetto non si fanno domande indiscrete o cose di questo genere quindi quando la nostra vita è divinizzata diventa divino tutto quanto quindi io mi raccomando sarebbe bene così lo facciamo prima il topo semplificando come proposito di questo giorno ma questo sarebbe un proposito da portarsi avanti molto a lungo riconosci in ti amo di Dio e ricambiali i giri nella creazione cosa sono cosa ha detto Gesù di fare a Luisa i giri non soltanto una fiat creata i giri si possono fare dappertutto capite mettere il mio ti amo nella fogliolina dell'albero che significa significa che tu lo riconosci e quello è un ti amo di Dio lo ricambi anzitutto tu grazie ti amo signore ricevo il tuo ti amo e ricambio il tuo ti amo per questo dono che tu mi hai fatto nella fogliolina di questo bell'alberello che non so neanche a che specie appartiene d'accordo poi siccome questa fogliolina non è intelligente il mio ti amo lo metto lì perché tu possa trovare in essa il ricambio di amore che ti è dovuto nella fogliolina capite e non è uno scherzo Dio la guarda il nostro ti amo in quella fogliolina lo sente e poi c'è un problema che gli esseri umani non porta niente a nessuno della fogliolina che tu hai fatto ecco forse eccettuata la Madonna Luisa e qualche altro santo non in molti ti hanno detto grazie per questo offendendoti perché non riconoscere l'amore di Dio è offendere Dio non ci abbiamo mai pensato bisogna andarsi a confessare capite ricordiamo che nel popolo di Israele quindi nel popolo di Israele ma gli mandò i serpenti veranosi Dio nel deserto quando stavano sempre a brontolare a lamentarsi di tutto quanto anziché ringraziare Dio per le opere che aveva fatto in loro stavano sempre a lamentarsi in continuazione Mosè si è esasperato d'accordo a forza di sentire sono peccati questi qui perché noi di Dio non ci abbiamo da lamentare c'è niente neanche di questo caldo pazzesco di questi giorni no non c'è niente da lamentarsi lo offriamo in unione con il fiat divino siamo consapevoli che quando la creazione fa brutti scherzi vuol dire che i peccati degli uomini stanno aumentando e la creazione stessa si rivolta contro di noi questa cosa cesserà se qualcuno dinanzi a questo caldo pazzesco anziché stare sempre a dire che è caldo che è caldo che è caldo fa caldo fa caldo fa caldo sbuffando 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 lo offre certo nessuno ti vede che se c'è la recondizionata in casa la accendi d'accordo questo non è proibito ma siccome comunque si avrai delle uscite di casa d'accordo i momenti in cui starai torturato dal caldo lo offre a Gesù e è finito il discorso finito ecco attenzione che non ricevere ti amo di Dio non riconoscerli è peccato lo dico con piena cognizione di causa perché Gesù è stato 30 anni sul pianeta Terra a come dire a guardare tutti i diametri a prenderli tutti e a ricambiarli tutti nei mini particolari ecco perché la vita è una divina volontà e concludo figlioli negari è vita di felicità è vita di persone felici perché qualcosa succeda cioè io sono circondato dei diamo di Dio d'accordo e di cambiarli alla vita è bellissimo la divina Maria in questo ci aiuti facciamo sempre il nostro minuto di silenzio e poi concludiamo la meditazione grazie a tutti o mia divina Maria tu esattamente allo stesso modo del tuo figlio il tuo incarnato hai trascorso la vita terrena in un interrotto atto di perfetta fusione con la divina volontà non soltanto essendo perfettissima in tutto e quindi concedendo al cielo di vedere la prima creatura con la tua assunzione salire che non avesse mai perso nemmeno un istante la connessione con la divina volontà ma tu stessa ecco anche come con la dentrice hai riparato per tutti e sai bene cosa significa e quale gioia produce il vivere nella divina volontà tu sei con lei che è stata veramente affogata e inebriata dai mari infiniti dell'amore di Dio li hai ricevuti tutti perché stavi in condizione di poterli ricevere proprio per questa rinuncia originaria alla tua volontà che hai fatto nel tanto stesso del concepimento che hai aperto la tua anima a diventare un ricettore un davvero un un tabernacolo di tutte le grazie che Dio voleva effondere senza timore che ti facessero del male e tu hai sempre ricambiato con oceani infiniti di gratitudine di amore talmente grandi da far girare la testa e il cuore di Dio quindi noi ti supplichiamo e ti chiediamo di aprire i nostri occhi citati ti amo che Dio ci manda e aprire il nostro cuore e la nostra mente sulla comprensione di quanto è divinamente bella la vita nella divina volontà con il proposito di oggi come detto cerchiamo di farsi attenti a tutti i ti amo che oggi come sempre Dio ci dirà quelli che abbiamo ascoltato e quelli che lo Spirito Santo se manteniamo questo proposito ci farà vedere Gesù ti amo con la tua volontà e Maria ti amo nella divina volontà Gesù ti amo con la tua volontà Maria ti amo nella divina volontà Gesù ti amo Gesù ti amo con la tua volontà Maria ti amo nella divina volontà Gesù ti amo con la tua volontà Maria ti amo nella divina volontà Gesù ti amo Gesù ti amo con la tua volontà Maria ti amo nella divina volontà Gesù ti amo con la tua volontà Maria ti amo nella divina volontà Gesù ti amo con la tua volontà Maria ti amo Gesù ti amo con la tua volontà Maria ti amo con la tua volontà Gesù ti amo con la tua volontà Maria ti amo nella divina volontà in la divina volontà nel nome del padre e del figlio dello spirito santo ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua madre santissima prima di iniziare la sua passione quindi per me di intercessione di la beata sempre Vergine Maria madre regina della divina volontà ti benedico per imprimere in te il triplice suggerito delle tre divine persone affinché tu risorghi dal tuo decadimento per vivere nel divino volere questa benedizione nel nome del padre comunichi di imprimere nella tua volontà il suggerito della sua potenza restituendo la sua rona di tutto nel nome del figlio di Gesù comunichi di imprimere nel tuo intelletto il suggerito della sua sapienza e nel nome dello spirito santo comunichi di imprimere nella tua mamma il suggerito del tuo amore ti siano restituiti le forze dell'anima e del corpo si risanano da un'infermità spiritale corporale ed arricchiti abilità di ogni bene e virtù la tua anima per circondarti di difesa contro il demone il mondo e la carne insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create affinché tu le ricevi tutte benedite da lui ti benedico la luce l'aria l'acqua il fuoco il cibo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti dal mare ti benedico per consolarti ti benedico per farti santa ti benedico nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria